Ma che c'è vicino Anna? Una bottiglia! Ma stai zi, sei pregato di... Una bottiglia? Una bottiglia? No, no, Anna! Ha cercato! Ha cercato di infamarti! E allora mi metto qui... No, il tavolino! Cosa c'è qui? Il tavolino! No, no, no! L'hai scassato! Benvenuti ragazzi in un nuovo video di Gmod Quest'oggi giochiamo nel labirinto dei Nextbot E i Nextbot oggi sono... Peppa Porca! Sì, porcona! Huggy Wuggy, tutto bellissimo! Sì, sono io! No, faccio vedere il pisello Poi, Kermit la rana, che è strana! Kermit la rana! Sì, strana! Ma tu io non voglio nemmeno che ci sei Ma stai zitto, ma stai zitto! Cartoon Cut! E io sono Tom e Jerry, tutte e due! Tutte e due! Mezzo, mezzo, però... Per farvi più paura oggi Diverrò! Una bestia nelle profondità, diverrò! No, no, no! Tutto in freddo! No, no, ma stai scherzando? È il peggiore che c'è! Avete già consumato... Tre quarti del tempo che avevate per andare in un'altra storia Tre quarti, eh? Ma io poi ho già visto... Ho già visto che andavate tutti in due direzioni di sole Ma non vale! È finita! È finita, per voi! No, è finita! Picciottelli è terminata! Sto per partire, sto partendo! Sto già partendo! Sono invisibili, ragazzi! No, non vale essere invisibili! Non vale! Volete vedermi? Non è andato? No! Allora, quest'oggi, per dare un plot twist alla situazione Voi potrete vedermi un pochino E magari potrete anche usare delle armi per cercare di colpirmi Vi avverto però Infatti qua ti volevo la... Saranno le armi? Sì! Vederemo cara la pelle! Ti divento un po' invisibili Tanto ti vediamo arrivare... Ah no! Cosa hai detto? Vedo un idiota! Vedo un povero stupido! Sono io per cazzo! Raga, sono io! Sono io! Me lo sento! Non lo percepisco! Vedo un demente! Un piccolo stupido! Stupido! Non so dove scappare! Non puoi scappare! Non mi cerchi di sparare! Mi hai tolto solo 10 di vita! Mi hai tolto 10 di vita! Muore! Muore! No! Aiuto! Pavorissimo! Bruttissimo! Il primo è andato! Ne rimango altri! Capito ma non ho detture con niente! Dove sei? È orribile! Non vi preoccupate! Dopo il mio round ci sarà anche il round di qualcuno di voi che potrà soffrire cercando di trovare tutti! Ho trovato un altro! Che ho trovato? Sibili! Ma andate già! Ho trovato un altro! Ti sei un povero bambino! Non ho passato niente! Come si chiama? Un povero bambino indifeso! Questo è indifeso! Ma chi hai trovato? È innocente! È innocente! È innocente! Lui corre! Lui corre! Ma sono io allora! Lui corre! Lui corre! Ma è spaventosissimo! No ma ho sentito un suono orribile! Oh come mi dispiace ti ho fatto paura! Ma non è possibile! Cioè in 30 secondi ha trovato ottergiate persone! Adesso dobbiamo cercare altri bambini però! Ci abbiamo Anna e ci abbiamo Alex! Dai dai ci sono! No ci sono! Ricordo che poco fa Alex facevi molto il barroso si dice qui in Sardegna! Cos'è il barroso? Il fiero! Ti prego! Ti prego! Non fammi le parole! Guarda davanti a te Alex! Non è vero non è possibile! Potresti non vedere niente ma... Io non vedo niente qua! Non potresti anche vedere qualcosa! Vieni! Vieni qui! Ah ti vedo! Ti vedo guarda come corro! Fratelli è finito! Scappanata! Non stai scappando abbastanza veloce! No! Mi dispiace! Lasciami! Vieni qua! Sei morto da te! Nella sedia di bambini esclusi sei morto! Bambini esclusi vuoi un po' di... No! 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 A te no! Perché giustamente Stefano ti è bastata quella di prima! Giusto? Vi giro! Vi giro dai! Ma v'è tremendo! Rimane una! Ma perché sto soffrendo sempre di più così? Porchettona! E dove ti sei nascosta? Eh? Tu non ho le profondità e non mi troverai mai! Ah ma mi dicono che sei una porchettona armata di fucile a pompa! Ma come lo sai? Eh perché ti ho visto prima che eri bella Armanda! Ma ok pensavo che mi avessi visto anche adesso! Non ti ho visto ancora! Ma sto cercando il percorso che ha fatto questa porchettona armata per arrivare sotto dove si è nascosta! Non lo troverai mai! È impossibile! È segreto! Allora di qua non sei andata! Sono i porchettoni lo sanno! Forse sei andata qui sotto! E com'è buio! No! Oh no! Lo sa! Lo sa! Non lo sai ma non è vero che lo sai! Non farti trovare! Carapà! L'hai trovata? Allora il rosa della porca si vede molto bene qui nel nero del labirinto! Ci sono degli specchi dappertutto! Guarda che brutto posto che ti sei scelta! No! No! Peppiniella! No! 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 Magari non ti ho trovato! Guarda lo specchio che c'è dietro di te! No! No! Guarda lo specchio che c'è dietro di te! Lo vedi quel bello specchio? Guarda lo specchio! Non voglio! Guarda lo specchio! Vedi qualcosa? No! 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 Cosa c'era nello specchio? No! 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 Sei troppo forte qui! Pigliata! Pigliata! L'ho plagio pigliata! Eh! Sei stata pigliata! Bro! Eh! Ti è fatto brutto! Eh! Ti ha spaventato! Eh! Eh! Ce ne sarà ancora di più! Dov'è la sedia dei bambini esclusi? Che non vi trovo! Bambini esclusi! Dov'è il cerchio? Ne avevo visto per un attimo! Si è scomparso! Eccovi! Eccovi qui! Vi avevo trovato! Poi non ho visto nessuno! E me ne sono andato! Adesso bisogna cercare il bambino escluso! Che dovrà essere il prossimo campione mostro cercatore! E io so che uno di noi piange moltissimo! E non trova mai nessuno! Anche io ne lo so! È quello lì! È vero! Verissimo! Ne ho conferma! Di chi stai parlando? Quello lì! Quello lì! Quello scuro! No! No! Allora! Sputo Terraqueo! Prendi il mostro! A te è favoribile! Uno un po' bruttino! Perché non è che puoi meritare! Lo prendo subito! È brutto brutto! È brutto forte! Ma che smiley! Ma cosa siete? È composto! Ma mi hai detto tu! Ma cambialo! Cioè ho capito che tanto non è che vedremo molto sto mostro! Perché fidatevi è scaso! Metto questo! Bravo! Che bello! Allora ragazzi! Faccia il muro per favore! Ma da contare! C'è un paio di posti che non hai idea! Voleva barare! Stava guardando! E mi fai! Ma dobbiamo pensare! Allora dovete guardare me e io vi faccio vedere dove vado! Mi tengo anche l'attore! Magari riuscite a vedere! Allora così! Ok? State capendo così! Ti seguiamo! È chiarissimo! Bisogna andare! Vedete che ho girato 180 gradi così no? Vedete? Così adesso è un po' difficile vedere dove sto andando! Però potete vedere che c'è una stanza! Se vedete! Che ha delle luci stroboscopiche! Bellissima! Bellissima! È pulito! Ok ok fermi! Così è un po' strittina però se stiamo molto fermi nell'angolo ci stiamo tutti! È un party! Manca la porchettona! No! Ehi! Porchettona! Vai ce l'ho ce l'ho ce l'ho! Dai che ti fai trovare da quello lì! Da me scusa avevo perso un attimo la strada! Allora adesso vi assegno un posto perché giustamente essendo piccolo lo spazio bisogna stare fermi! Allora schifoso blu lì nell'angolo e stai zio! Ma perché qui non ci sono le luci? Eh lo so ma tu non le meriti le luci sei brutto! Quindi siete al buio me lo segno! Per quanto riguarda gli altri direi che possiamo anche aggirarci perché lui ho paura e con quell'enorme sedere e le gambe luive! Ok vieni nell'angolo! Mi rovescia tutto! Eh infatti tocca le cose poi rovina la festa! Allora fregato! Adesso io direi che puoi partire a cercare! Mi raccomando non vogliamo un replay dell'ultima volta che sei stato terribile! Guarda che io adesso 30 secondi trovo uno! Allora vediamo cosa c'è qui! Ah ma è bellissimo! Visto che l'aria non ci troverà mai imbandirei qualcosa! Un festino lo so! Eh imbandisci qualcosa su questa tavola! Guarda c'è anche qua ci si può esibire! Ma che bello è bello! Ehi servo vai lì a esibirti! Posso ballarmi? Sì! Ballarmi? Vai a ballarti! Vai a ballarti! Brava! Ma mi dite dove siete? Eh no scusa! Non possiamo! Segnifica mi dite dove siete! Non possiamo fare questo! Tu cerca però eh! Cerca! Eh io sto correndo come un pazzo! Cerca bene! Che già stai a piangere! Oh no! Tu sto piangendo! Per favore! Allora Stefano guarda questo qui è il... Che mi fa ballare la testa! Vedi dietro di te c'è il buco del c***o di stre... Sempre presente! Sempre presente! Bisogna essere attento! Come vedi ci passi anche tu intero! Prova a entrarci! Così? Sì! Assurdo! Spazioso! Ma non ha senso! Che agilità! Ma scusa! Ma tu tra tutte le cose che potevi mettere hai messo questa roba? È una bambola laio! A me piacciono le bambole! È un po' strana eh! Cosa c'entrano le bambole? Ma un pink! Qualcosa da gustare! Che ho messo io! E cadiscio dog! No! Ecco qua! Oh! Ma stai facendo un party! Pure io dog! Ma brutto de mente! Ma ci stai cercando cosa? Ma ti è brutto! Ma io non ho mai smesso di correre! Tu non stai trovando niente! Ma stai facendo schifo! E ma sto guardando ogni centimetro! Ma siamo qui da un'ora! Ora gabbè! Ma noi siamo fermi da mettere un po' scemo! Ma guarda qui! È il peggiore! Mi chiedo un indizio! Posso? Ma stai zitto! Cercaci! Bestia! Ma dove? No! No! Uno! Uno! Ti prego! Chi ha messo gli hot dogs? Io! Ma non sono la tua famiglia! No! Ho preso un po' Con il ketchup! Peppa che fai? Tu sei bazzita! È bebono! Che devo fare? È bebono! Peppa! Bebono! Spagna insomma! Che bel pallone! Ho stregato! No! Dovete dirvi qualcosa! Fate qualche rumore! Qualcosa! Allora ti do un indizio! Che fai schifo! Ti do un indizio! Allora ti dico come sono le pareti! Così sai a che piano siamo! Sì sì ti prego! Allora siamo nelle pareti a violacce! D'accordo viola! Ma! Ehm! Oh! È so! Sì! Sì! Sono solo nel primo piano! Devente! Ehm! Ehm! Vabbè adesso vado! Ma non si esprime come Tazan! Ma ascolta ma stregato! E basta no! Al primo piano? Ho guardato ogni cosa! Non ci senti! Evidentemente no! Cioè se noi siamo al primo... Non hai guardato bene! Sta dicendo che io sto dicendo una bugia? Lo sta dicendo! L'ha detto! No! Sono io che non sono abbastanza stabile per trovarmi! Ah io lo sapevo che prima o poi avresti rovesciato tutto! No! Scusa! Ma perché volevo lo scusami! Io ti ho detto appena entrati! Allora lui mi ha... Di stare in fermo! Scusa ho detto! Io appena entrati ti ho detto stai nell'angolo perché rovesci tutto! Tempo! Due minuti ti sei mosso! Sei passato addosso a tutto e squassa! Guarda! No! Mi ha offeso! Voleva rubare la festa! Ve la rovinare tutta! Se ti ha offeso ha fatto bene! Ma datelo a me che me lo mangio! Torno nel buchino! Stragato stai zitto e cerca! Ci siamo da un'ora qui! Siamo da un'ora qui! Ho setacciato ogni angolo! Qualsiasi cosa! Tutte le penombre! Non c'è niente! Non hai cercato abbastanza? Non lo so cioè... Ragazzi è una vergogna! È una vergogna! Ma la festa è finita! Strega il tempo passa si anguida ci si stiamo annoiando e tu non stai a fare nulla! Non mi avete manco mai visto? No! Ma no! Ma io non lo so! No non riesco non trovo dove siete? Ah ho trovato un altro e quattro avete visto? No non dobbiamo toccarlo! Che è successo? Ho spento la luce! Che è successo? Ho sentito rumori! Ragazzi! Strega ma anche da te si è spenta la luce! No però ho sentito rumori strani! Meno male! Oh qui si è spenta di brutto eh! Molto peggio di brutto! Ma no vuol dire che non siete qui dove è! Sbrigati però! Ci stiamo in tormenta! Qui! Ah adesso! Ce ne devi parlare tu eh! No veramente questo qua è un po' di infatti! Non c'è ancora trovato lo scarso! Che vuoi il lattuccio? Ma cosa ti ho detto? Lo scarso? Di consolarlo? No! E che stai a fare? Mi ha dato anche una pacchetta sulla spalla! Io l'ho dal viverone dai! Il latte caldo caldo perché piange poverino! Ma così si sgruda la persona! Ma cosa stai facendo? No hai ragione non devi insultarla hai ragione scusa! Eh non lo so! Regalato sei la cosa più scarsa sulla faccia della terra! Ma ancora ma così cosa gli stai facendo? Gli stavano dei bacetti! Ma che cos'è sta roba? Che lo sta accarezzando! Ma così si sprona una persona! Lo faccio io! Eh lo fa Stefano! Stai sì dove non serve a niente! Oh no! Dai Stefano fammi sentire! Stregato mo veniamo e ti accoppiamo per bene! Se non ti sbrighi a venire qui! Dai! Oh no! Ti pisciano in te! Alex non serve più a niente! Sei pregato d'andartelo! Sì! Dai io non ti scongiuro! Cos'vi ho già detto dove siamo? Ma ho già cercato ovunque qui! Oh chi ha messo sta torta buona? Io! Grande! Ti piace? Questa con chi è fatta? Con i tuoi cugini di campagna! Allora senti! Se la vuoi mangiare bene! Altrimenti la la mangio io! Ma che c'è vicino Anna? Una bottiglia! Ma stai zi! Sei pregato di... Una bottiglia! Hai sentito? Una bottiglia! No no Anna! Ha cercato! Ha cercato di infamarti! Sto verd***o! Io non ci posso credere! Ti ha messo la bottiglia di vino va avanti! Guardalo! No senta senta! Qua l'ha messa! Guarda! L'ha messa lui! Bene l'ha detto! Ha fatto! Ma cosa c'è qua? La bottiglia! Pessimo! Vicino a Anna! E tu torna sul palco a ballare con l'anno distregato! Torna sul palco a ballare! Ma che palco! Dai! Oh non stai trovando a nessuno! Ma state parlando di porchetta torte! Di porchetta! Palco! L'ho sentito me a farci dire porchetta davanti a me! Ma io non lo so! Dai! Non lo so! Non ci prego! Ho anche scassato il cristallo e non c'è più niente! Per bello qui adesso! No! Eh! Qua! Lion qua! C'è un pulsante! Eh l'ho visto! Proviamo a prendere! Premilo! Magari aiutiamo sdregato! Che ti devo dire? No! Ma che è il pericolo! Oddio! Lion! Che cosa è successo? Dove sei? Sono... Dove è stregado? Premiamo il pulsante! No! Non lo premete! Non lo premete! Dove sono io? Dove? Dove? Non ci vedo! Rimanete lì voi! Rimanete lì! Tanto giuro che non mi trovo allo stesso! Perché... Cioè... Ma dove sei? Non trovami! Dai! E' detto che sono messo in te! Noi! Fai qualcosa! Cioè io non ho parole! Fai qualche rumore! Ma fai qualche rumore! Ah! Ah! Ho visto! Ho visto! Ratto! 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 Ho visto qualcosa di peloso che si muoveva! Di peloso? Io sono Tom & Jerry prima di tutto! Quindi... Cioè cosa hai visto? Ma sei scemo! Sei impazzito! No! Era qualcosa che si muoveva! E perché non l'hai preso se era qualcosa che si muoveva? Ma perché è scomparso! Ma perché si sta inventando le cose! Mi stai accusando di imparare! No! È che è scomparso davanti a me! Adesso mi sta accusando! Ma ti pare che insulti il sonno di barare? Ma la smetti! Ma ti pare che insulti il sonno di barare? Oh! Ma che vuoi? Ehi! Però scusa! Evi tu! Stai a dire! Ma cosa ero io? Che non ti abbiam visto mai in tutto il tempo! Oh scemo! Dove siete? Ti stai urinando i pantaloni eh! No! Ho visto qualcosa! Ho visto qualcosa! È scomparso! Ma cosa hai visto? No! Ti ce l'ho! Ma stai a vedere! Ma stai inventando le cose! Ma stai uscendo di te adesso! C'era una figura davanti a me! Sempre quella pelosa di prima! No! Non era pelosa! Non era pelosa adesso! Adesso si era depilata! Sembra uno scheletro! Si era rasata! C'era uno scheletro adesso! Ti giuro! Ah! Ah! L'ho fatto rotto! Ma sei impazzito! Che stai dicendo? No! Io mi sto preoccupando eh! Ma vedi la gente è morta adesso! No! No! Eh! Stavo correndo lungo il corridoio! E sei inciampato! Oh no! Ho girato l'uomo ed è scomparso! Volevi fare una scorreggina e ti sei cagato addosso invece! Da cifo! Così è successo! Non è così! Io non le ho parole ragazzi! Cioè eh! Io non ricordo neanche com'è fatto! Ma io neanche! Ma meglio meglio quello eh! Perché è fatto male! Sono giallo! E sono molto bello! Sono chica! Ascolta! Ma che molto bello! Merto! Merto! No! No! Ma è impazzito! Ma che cosa è che stai trovando? Ah io vedo qualcosa che si muove e corre! Eh! Ma tipo passo sulla luce e scompare! Ma sei impazzito! Tu un fantasmi? Cioè eh! Pessi sì! Sei impazzito! Allora con calma! È impazzito completamente! L'ho v... Cosa vedi ogni volta? No! No 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 no! Qualcuno è... Cosa vedi? Dimmi cosa vedi! Non lo so! Non lo so! È basso! Allora vedo un qualcosa di molto basso! Eh! Basto! Mi avvicino e scompare! Una balena! No basso! Ma non è che per caso è finito nella zona dove ci sono gli specchi e vede se stesso! Ma vedi che seguono gli specchi! No ma... No no! È la luce! Ma che è la luce? Vedi gli specchi! Adesso vede le luci! Ci sono gli specchi! No! Non ci sono specchi! È che sotto la luce se mi allontano abbastanza compare qualcosa! Ma tu guarda che giù... La luce! Ci sono gli specchi! Sta vaneggiando! No 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 no! Ci sono gli specchi! No 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 no! Allora qua c'è da correggere! È lui che beve non io! Allora! Allora te spiego io! Hai presente che ci sono gli specchi? Quando tu ti avvicini si spostano per farti passare ma ci sono gli corridoi, ci sono sotto le luci, ci sono gli specchi! Quando tu ci vai verso lo specchio si toglie e è per quello che vedi la cosa sparire ma quello sei te! Ma... Eh! No 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 non è non è mai stato così! Ma sì! Ecco perché non sei mai stato il mostro! Smettila! Sono gli specchi! No è impazzita vai! Non è più! Vaci davanti a uno e fai le cose vedi che fa le cose uguali a quelle che fai te! Allora! È qui! È qui! E se mi avvicino abbastanza si sparisce? Non ti avvicinare e muoviti per vedere se si muove anche lui! Eh non si... Ma non ci credo! No non ci credo! No! No è uno spec... È uno specchio! Ma che sta succedendo? Allora 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 allora... Tu prima... Come hai fatto a non impazzire questa roba? Perché lo sapevo no! Ma ci sono le figure che si muovono! Ma no! Sono gli... Sei tu quello! Sei tu! Si è glicciata la skin! Dai! Hai preso le altre skin! Capito? No no no! Io sto scappando! Io sto scappando! Ho i fantasmi che mi seguono! Eh però! No! L'ho rivisto lo scheletro! L'ho rivisto! Lo schermo! Ma non c'è! Ma è un altro specchio! Ma è un altro specchio! Fratello! Vi giuro! No no! Ecco... E' qua! Eh! Io che non so! Cosa c'è? No non so! Ho visto... No è mio che ho fatto lo scheletro dietro! No 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 no! Lo scheletro! Ma che cosa stai vedendo? Ma che scheletro? Ma non avete mai visto uno scheletro? No basta! Basta! No! Non voglio più giocare! Vabbè ragazzi però... Allora secondo me va fatta l'esenzione che non può più cercare lui! No è un frigo! Mi soppre me la pancia! Ma stai piazzando totalmente! Oh ma questa è la dama cinese! Ma guardi tutto! Cioè! Ma lascia stare proprio! Divani! Toro! Ma stia da bagno! Porchettona! Eh! Dov'è la tua bottiglia? Eh! Eccola! Eccola! No! Lo sapevo io! Questa è una bajur! Alex è una bajur questa! No no è una bottiglia! Ma è di chi è che beve adesso? Qui mi sa che è un vizio... E' un vizio! Bravo Dio! Non ci sono gli scheletri! Ascolto fratello non c'è più nessuno! Ma ancora? Cioè anche se prima ti potevo stare magari un pochino prendendo in giro io! Ti assicuro che adesso sei da solo e stai uscendo di testa! Anna sei piena di bottiglie di birra eh! No veramente Anna! Ma lascia stare! Lascia stare! Non parlo più! No! Attenzione! Secondo me te le sei prese tu queste perché Alex non le ha metto! Ho visto bene che non le metteva! Ma non è io! Non le mettevo io! Lo giuro io! Vabbè io direi che ci possiamo fermare! Stregatto performance veramente terribile! Vergognati! Dove la fate? Ma vai via! Ma non te lo diciamo nemmeno! Non meriti... Dove eravamo? Eravamo lì nel labirinto insieme a te e insieme agli specchi e tu non vedevi nessuno! Ma è impossibile! Non ti so che dire guarda! Sei una vergogna vivente! Una persona brutta! Scarzo! Scarzo! Beona! E per oggi ci salutiamo! Grazie di aver guardato questo bel video! Vi chiedo scusa per la terrib... Chiedi scusa! Scusate! No 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 l'ho rivisto! L'ho rivisto! No no no! Chiedi scusa! Scusate! 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 Ho fatto schifo! Pessimo round! Grazie di aver guardato il video! Lion out! Ciao! Ciao!